Top Listing per Catania, primo posto Daniele Ferrera, ci si ripete quindi? Bassi e incarichi Quindi, dico, secondo me è un ottimo lavoro, top report, top listing? Per portare risultati serve ribasso e incarico, fondamentali per i fatti Ma la tecnica qual è? Li prendi, li minacci? Come so fai? Con la pistola Meraviglioso, meraviglioso E vogliamo ricordare semplicemente che i nostri clienti, che nessun cliente è stato maltrattato durante i report di Daniele Ferrera Questo era importante E anche per gli incarichi, anche per la presa degli incarichi non maltratta nessuno